questo è il giardino delle terapie si trova in spagna dove viviamo e queste scale fatte in pietra portano esattamente dove abbiamo creato la stanza delle terapie del massaggio e della sauna questo è il panorama circostante dove già camminare tra questi bellissimi fiori fa sentire il senso del rilassamento sicuramente come a me anche altre persone questo verde suono degli uccellini la natura intorno sfido a vedere chi non si sente in pace solamente a vedere queste immagini questa è la stanza con un bagnettino adiescente e questo è il giardinetto che praticamente può essere sfruttato anche per fare dei massaggi all'aperto e rimanere insomma in mezzo alla natura ovviamente questo richiede una temperatura abbastanza calda al momento sono 20 25 gradi ma il tempo varia moltissimo e potremo offrire la terapia all'aperto solamente in estate questa è la stanza invece dove possiamo fare massaggio all'interno ed è appunto la stanza della sauna con questo muro che permette il suono dell'acqua della cascata che può essere utilizzato anche per un rilassamento più profondo o per la meditazione stessa sull'acqua